Ciao a tutti gli amici di Radiolinea, anche oggi andremo ad allenarci insieme. Andremo a fare un esercizio per i tricipiti, due esercizi per gambe e glutei. Non pensate che sia un allenamento per solo donne, perché anche negli uomini i glutei sono importantissimi. Giusto Beatrice? Se vuoi fare una constatazione su Freddy puoi farci sapere. Cominciamo! Partiamo con il primo esercizio. Mezzi stacchi, le gambe sono divaricate come le vostre spalle. Appena piegate, i pesi o le bottiglie in avanti, la schiena bene dritta, sguardo avanti, scendiamo scivolando con i pesi vicino vicino alle gambe, fin dove riuscite ad arrivare, saliamo e stringiamo forte i glutei. Cerchiamo di non guardare in basso, di mantenere la schiena dritta e soprattutto di non allontanare i pesi dal corpo. Secondo esercizio, glutei in quadrupedia, gamba distesa. Le braccia sono distese, la schiena è neutra, quindi mi raccomando non le inarcate. La gamba è distesa dietro, punta a martello, salgo fino al gluteo, stringendolo bene e scendo fino a sfiorare terra. Salgo, mi raccomando non piegate il ginocchio, gamba tesa, l'addome è forte e la schiena è bene ferma. Siamo arrivati all'ultimo esercizio. Per i tricipiti, French Press, ci posizioniamo lunghi, con i pesi o le bottiglie in alto. Braccia ben distese, le gambe sono piegate, l'addome è forte, andiamo a flettere il gomito e a distendere completamente il braccio. I pesi sfiorano le orecchie, i gomiti non devono allargarsi né muoversi in avanti e indietro. Gomiti bloccati, flettiamo poco più di 90 gradi il gomito e lo distendiamo completamente. Abbiamo finito, per ogni esercizio 15 ripetizioni per 3 giri, 4 se ve la sentite. Non dimenticatevi di seguirci sul canale YouTube di Radiolinea per non farvi trovare impreparati all'estate. Ciao!